La collezione Marini nasce dalla passione di questo signore, di questo industriale di Ravenna. Era una passione più per il passato che specificamente per gli strumenti musicali. E lui del suo passato ricordava soprattutto, sempre almeno da quanto lui raccontava, questi vecchi organetti che passavano per le strade. E la collezione, di fatti, raccoglie una grande quantità di questi organetti, di questi piani a cilindro, che venivano chiamati in Italia organetto, viola, organino, perché nel modo di parlare popolare comunque tutto quello che suonava era un organo, insomma, o una viola anche, venivano chiamate anche viole. E nasce da questa passione e dall'incontro poi con me. Nasce da questo incontro. Io mi occupavo già degli strumenti, ma soprattutto degli strumenti un po' più complicati, come appunto i piani pneumatici e i grandi organi. A un certo punto mi ha invitato a vedere questa sua piccola collezione ancora allora. Erano gli anni, fine degli anni Sessanta. In questa collezione avrò avuto una decina di strumenti, fra i quali soprattutto piano a piani a cilindro, come dicevo, è un piano stranissimo americano che suonava con dei dischi metallici. E non so come è nata l'idea di raccogliere un po' tutti questi strumenti, strumenti di tutti i tipi, per vedere come la musica fosse riprodotta, insomma, e portata in giro per le strade e fatta conoscere a tutti in maniera abbastanza semplice. E lì è cominciata una caccia, una vera e propria caccia agli strumenti. Girando l'Europa e gli Stati Uniti, un po' dappertutto, insomma, si è riusciti a mettere insieme una collezione di 600 strumenti di tutti i tipi, cioè dai meccanismi, da quelli piccolissimi, tascabili, diciamo così, che possono essere contenuti in un orologio da tasca, i meccanismi a pettine metallico, fino ai grandi organi e ai grandi orchestri. L'orchestrion è uno strumento in genere con una base, che può essere un pianoforte, può essere a corde, oppure a canne, può essere un organo, ma con l'aggiunta di altri strumenti, in modo da fare un tutto completo. Questa collezione, dopo la scomparsa di Marini, è rimasta vicino a Ravenna, è rimasta abbastanza trascurata tutta assieme, perché c'erano le difficoltà nel trovare i mezzi per restaurare, trovare le persone capaci. E' andata avanti così fino a che nel 2007-2008, adesso non ricordo bene l'anno preciso, è stata acquistata dalla fondazione Carisbo, e mi è stata affidata la cura, appunto, mi è ritornata, diciamo così, è ritornata a me la cura di questa collezione, che dovrà essere esposta al pubblico, in qualche modo, e si sta appunto pensando adesso di come e dove esporla al pubblico.